Giulio Berruti, il ballerino sotto le stelle, ha fatto breccia nel cuore di tutte quelle telespettatrici che ancora non lo conoscevano. E bisogna dire che erano poche. Amato attore di cinema e tv, Giulio si è imposto anche per il suo talento di ballerino, tanto che il suo nome è nella rosa dei papabili per la vittoria del talent di Millie Carlucci. Peccato però che sia giunto un piccolo scandalo a far discutere sull'immagine del bel tenebroso Giulio. Il settimanale Novella 2000 ha infatti pubblicato alcune foto tratte dal set del film Golsius and the Pelican Company, girato nel 2012 ma mai uscito nelle sale italiane proprio per i suoi contenuti ad alto tasso erotico. Nelle immagini Berruti è colto in un frame di nudo frontale, indossa solo una Gepier ed è depilato. Insomma, un'immagine un po' diversa da quella del bravo ragazzo amato dal pubblico del sabato sera di Rai 1. Inutile sottolineare che si tratta delle scene di un film e non della vita reale. A quanto sostiene Novella 2000, la Carlucci si sarebbe adirata per lo scandalo. D'altronde questa edizione di Ballando non sta risparmiando sorprese. Tra polemiche, abbandoni improvvisi, rientri e colpi di scena live, le emozioni non mancano. Ora resta da capire se queste foto imbarazzanti costituiranno un ostacolo oppure uno sprone per il bel Giulio. Grazie!